amici di fano tv buonasera e benvenuti ad un nuovo appuntamento con impronte femminili la rassegna di arte e cultura per le pari opportunità e i diritti umani continua questo interessante percorso questa nutrita offerta culturale che poi altro non è che un dialogo tra linguaggi e territori con la collaborazione preziosa delle donne diamo il benvenuto alla curatrice della rassegna l'assessora Sara Cucchiarini naturalmente alle pari opportunità del comune di fano buonasera ben trovata buonasera mariera e buonasera chi ci sta seguendo allora siamo pronte per sfogliare il calendario del mese di giugno perché ritornano gli appuntamenti in presenza esattamente siamo siamo molto insomma contente di poter dire di aver completato il primo ciclo di questa quarta edizione della rassegna impronte femminili che era il ciclo online 13 appuntamenti con 13 comuni che sono i comuni della rassegna sulle nostre piattaforme web e appuntamenti che sono andati molto bene e che lasciano però adesso il passo a quelli in presenza abbiamo atteso tutto il tutto l'inverno per capire se ci sarebbero state le condizioni anche rispetto comunque alle normative di pcm vigenti e insomma le dichiarazioni di draghi di qualche giorno fa ci permettono di dire che potremo comunque dar luogo agli appuntamenti che avevamo pensato e messo in cartellone e gli appuntamenti in presenza per cui si parte si parte e come lo facciamo si riprendiamo diciamo in modo divertente perché consideriamo anche divertenti gli appuntamenti del ciclo degli psicopeditivi che è un ciclo di approfondimento ed incontri dedicati al confronto informale con medici in alcuni casi ma anche diciamo soggetti che possono comunque essere divulgatori di importanti informazioni che possono aiutare nella medicina di genere o un approccio corretto alle tematiche della medicina di genere che quest'anno sono dedicati sono incentrati tutti tre sulla sessualità le varie sfumature comunque che possono riguardare appunto la sessualità a questo tema e il primo sarà il 3 di giugno quindi il primo dei psicopeditivi dei tre psicopeditivi sarà l'appuntamento che apre agli appuntamenti in presenza ma l'appuntamento da cartellone che dà il via al ciclo degli appuntamenti in presenza da programma di impronte femminili è quello con una cara amica della rassegna che è con noi dalla prima edizione che è Mauro Maioli che sarà insieme all'attrice Jessica Tonelli con l'appuntamento sul desiderio del viaggio sulla nostalgia del ritorno in una parola sull'amore bene allora diamo il benvenuto a Mauro Maioli nostra gradita ospite buonasera buonasera e grazie per il graditissimo invito a te Maria Elena e a Sara insegnante scrittrice una carriera direi ricca e nutrita fatta di riconoscimenti di premi ma soprattutto di romanzi quindi si esce dalla scrivania insomma per portare al pubblico per offrire al pubblico chiamarlo spettacolo sarebbe riduttivo ma insomma diciamo una chicca per mettere in scena una chicca del repertorio però dobbiamo partire un po dall'inizio perché so che questa è una vecchia collaborazione diciamo il proseguo di una vecchia collaborazione no? Sì risale al primo alla prima edizione di Impronte Femminili in quell'occasione Sara aveva accolto nel programma con mia grande gioia una recital lettura scenica e col nome da dare a questo genere di spettacolo è ancora abbastanza così confuso non c'è forse e non c'è perché è una forma molto recente e all'epoca fu un dialogo a tre voci su questa grandissima scrittrice che è Irene Nemirovski in cui appunto avevo scritto questo testo facendo dialogare la sua biografia con alcune ossessioni dei suoi romanzi in particolare sul rapporto col materno quindi quello spettacolo si intitolava maternale Irene e Jezabel su quella falsariga io già l'anno scorso avevo cominciato a lavorare un testo che invece riguardava i miei romanzi le mie ossessioni partendo dello stesso spunto da un privato che diventa voce nel romanzo e quando quindi Sara quest'anno mi ha proposto di ridare un contributo a Impronte Femminili abbiamo pensato che si potesse riproporre quella formula che era molto piaciuta al pubblico e quindi è nato insomma questo sul desiderio del viaggio la nostalgia del ritorno in una parola sull'amore perché io penso che la letteratura sia fondamentalmente un atto d'amore nei confronti del genere umano e quindi sembrava un po' condensare tutto quello che è dei miei romanzi. Poi con Sara abbiamo ragionato su dove poteva essere fatto questo ritorno in presenza che io vivo come davvero un privilegio perché abbiamo la fortuna di vivere una città ricchissima che al mare che è un meraviglioso centro storico quindi personalmente ho vissuto questo periodo di pandemia sentendomi fortunata anche solo nel poter mettere il naso fuori casa fare due passi in un luogo che comunque mi rianimava ogni giorno quello che appunto sentivo come mancanza forte era l'occasione di trovarsi intorno a momenti di cultura a condivisione di esperienze anche alte quindi il fatto di essere il primo appuntamento in presenza veramente mi rende orgogliosa e ringrazio Sara per aver voluto questa cosa fortemente. È già un'emozione. È già un'emozione sì è già un'emozione e la scelta poi dello scalone vanvitelliano che devo dire è stata una felice intuizione di Sara mi aveva proposto alcuni luoghi tutti ugualmente bellissimi ma lo scalone che io conoscevo solo per averlo visto in immagini aver fatto capolino al cima alle scale insomma ma non avevo mai percorso e credo sia un luogo magico e adesso non voglio rivelare troppo di come avverrà la lettura scenica però qualche piccolo assaggio che come dire solletichi un po la curiosità del pubblico a casa sì con Jessica Tonelli che è l'attrice e amica con la quale pure abbiamo un trascorso ad impronte femminili perché con sempre nella prima edizione Jessica aveva impersonato Jacqueline Onassis in questa meravigliosa intervista immaginaria quindi ne conoscevo il talento perciò con Sara abbiamo detto no dobbiamo dobbiamo affidare a lei il ruolo di voce per i miei romanzi per cui dialogheremo io metterò un po nudo me stessa e lei presterà appunto la voce ai personaggi dietro le quinte dei miei romanzi e lo scalone abbiamo visto che proprio è magico perché in qualunque punto uno si collochi lungo la scala intanto è avvolto dal suono per cui davvero diventa un'esperienza c'è questa acustica particolare per cui riverbera è come se le pareti facessero ecco alle nostre voci e poi noi saremo in un punto in alto per cui avremo proprio come l'impressione di affacciarci in una buca da cui gli altri risponderanno con gli sguardi speriamo anche con qualche insomma accenno di gradimento insomma e quindi è stata un'intuizione bellissima perché chi sarà sulle scale alzerà lo sguardo in alto e vedrà la meravigliosa volta frescata dello scalone e insomma dovrebbe essere davvero suggestiva l'occasione credo che sia suggestiva la location come si dice sarà sicuramente suggestiva la lettura scenica ma io credo che sia molto emozionante anche per chi scrive vedere poi trasportato insomma di fronte ad una platea tutto tutto il bagaglio emotivo ed emozionale che c'è dietro la penna dietro un racconto no sì io quando ho cominciato a lavorare questo testo ero un po sotto la spinta di tante letture e come poi scriverà sarà scritto sulla locandina in realtà nell'esplorare la mia scrittura io pago anche un debito di gratitudine ai tanti autori che ho incontrato lungo la via perché la letteratura si nutre di letteratura e quindi i libri si nutrono di altri libri e sono tanti gli scrittori a cui dovrei dire grazie e questa è anche un'occasione per fare per fare ciò e è ovvio che mi sono dovuta mettere un po a nudo cioè cercare di risalire no alle ragioni alle ragioni per cui in questi 25 anni ho scritto a che tipo di scrittura è la mia a quali sono i temi ossessivi che la percorrono perché così accade insomma io penso che abbiano ragione grandi scrittori come jonathan franz che dice che alla fine dentro abbiamo uno due libri e sostanzialmente veniamo scrivendo quelli per tutta la nostra vita credo sia proprio così dopo 25 anni e dopo cinque romanzi pubblicati penso di aver individuato quali sono le correnti sotterranee che mi muovono insomma e il desiderio del viaggio e la nostalgia del ritorno sono i poli entro cui questa mia scrittura si muove insomma e quindi racconterò da dove origina a cosa ha dato voce e ripeto ecco è un po un mettersi a nudo e anche fare un po i conti con me stessa insomma maura maioli una donna per le donne però uno spettacolo aperto a tutti insomma possono possono venire tutti quanti insomma non c'è una distinzione di pubblico no anche se partiamo dall'universo femminile questo spettacolo insomma è aperto a tutti coloro che gradiranno entrare un po in questo nostro mondo se così si può dire ecco la letteratura inclusiva la letteratura scavalca i generi scavalca i limiti e io ho scritto tre romanzi in cui ho protagonisti maschili di età differenti e penso che questa capacità di porsi nell'altro di trovare la voce dell'altro di prestare il proprio sentire a qualcosa che altro da sé sia la grandezza della letteratura è capace appunto di far dialogare fuori da ogni confine il confine è un altro dei temi che la letteratura supera quindi non solo di genere ma di età di luogo di provenienza di appartenenza per quello dicevo che è un atto d'amore nei confronti dell'umanità non c'è un luogo come la letteratura in cui l'essere umano si conosca e perciò certo l'altro ci deve essere senza l'altro non ci sarebbe la letteratura quindi un punto di incontro di confronto ma anche di arricchimento allora 6 giugno ore ricordiamo l'appuntamento ore 20 e 30 allo scalone van vitelliano in sito in palazzo montevecchio in via montevecchio appunto a fanno e voglio diciamo così cogliere questa occasione per ringraziare i residenti del palazzo montevecchio perché questo luogo che possiamo definire insolito nel quale daremo inizio al primo degli appuntamenti in presenza di impronti femminili quest'anno non è un luogo diciamo da spettacolo classico perché lo scalone van vitelliano che è uno dei scaloni di uno dei palazzi patrizi di metà del settecento più belli della nostra città è uno scalone privato e il palazzo è ad abitazione privata per cui ringrazio i residenti che ci hanno concesso di utilizzare questo bellissimo spazio questa diciamo di poter restituire pubblicamente anche in questa occasione diciamo così è considerata sporadica per poter comunque occupare questo spazio e dare luogo qui a uno spettacolo che in altro luogo forse avrebbe avuto una caratterizzazione anche diversa quindi i toni saranno evidentemente intimistici e sicuramente molto molto anche scenografici poi ecco chi verrà avrà un modo di vedere la bellezza del luogo e anche dello spettacolo che offriamo grazie allora maura maioli salutiamo anche jessica tonelli che poi insomma vedremo in scena questo è il primo appuntamento da cartellone e poi il via agli psico aperitivi altri appuntamenti in presenza poi insomma vi spiegheremo anche tutte le modalità per partecipare intanto vi dico che sono ad ingresso gratuito e per parlare di psico aperitivi lo facciamo con un'altra ospite in studio la dottoressa clelia raffaele buonasera buonasera grazie per l'invito allora si parla di psico aperitivi innanzitutto che cosa sono e a chi sono rivolti anche se non sono comunque una novità però insomma c'è sempre qualcuna pronta ad aggregarsi no assolutamente sì gli psico aperitivi non sono una novità di impronte perché sono un appuntamento che nasce durante la seconda edizione della rassegna e nasce un po' per creare un momento un po' più ludico con un aspetto un po' più divertente e un po' più fra virgolette dissacrante rispetto alla potenza delle informazioni e del portato che questa rassegna ha e lo psico aperitivo quindi si caratterizza come momento durante la seconda edizione si caratterizzava come un momento di aggregazione per le donne avevamo formulato con Sara la possibilità di creare questo momento il giovedì sera in cui le donne potessero uscire tendenzialmente il giovedì sera perché era la sera dedicata al calcetto per gli uomini quindi inizialmente creando ecco questo momento in cui le donne potessero uscire e parlare di temi a loro cari quindi durante la seconda edizione di edizione parla parlamo di temi cari al femminili come potevano essere la maternità la menopausa la sessualità in genere la formula funzionò fondamentalmente perché comunque le donne accolsero di buon grado questa possibilità e quindi decidemmo di riproporla anche per le edizioni successive purtroppo lo scorso anno gli psico aperitivi sono stati condotti esclusivamente in maniera virtuale online finalmente quest'anno riusciamo grazie alla preziosa collaborazione anche del locale che ci ospiterà che è il botanic a realizzare degli psico aperitivi quindi di nuovo degli appuntamenti aperti quest'anno l'obiettivo è di aprire il desiderio proprio quello di aprire le nostre serate anche un pubblico più giovane quindi a una fascia d'età che riguardi anche proprio il periodo dell'adolescenza perché perché in realtà fondamentalmente per alcune tematiche quella fascia diciamo la fascia adolescenziale specialmente delle ragazze viene tenuta poco in considerazione e quindi quest'anno il desiderio che arrivino anche tanti giovani sia ragazzi che ragazze bene quindi abbiamo detto è incentrato sul tema della sessualità però sono tre gli appuntamenti con tre diverse sfumature sì sì allora più che parlare di sessualità mi sembra dare una connotazione un po riduttiva al al tema perché il nostro obiettivo sia mio che di sarà anche di tutti i collaboratori collaboratori e collaboratrici di impronte femminili è quello di restituire un po una sacralità a quello che è il corpo e a quella che è proprio l'esperienza l'esperienza reale e concreta e non virtuale della sessualità quindi inizieremo proprio il primo appuntamento che sarà il 3 giugno inizieremo a parlare proprio di sessualità intesa come possibilità veramente del dei nostri corpi ma anche del nostro spirito di avere degli incontri fisici anche però cercando di veramente di elevarli a una qualità superiore rispetto a quella che l'informazione che viene fornita di base sia alle giovani generazioni ma anche agli adulti no spesso parliamo oggi purtroppo di una sessualità veloce di rapporti tenuti online il il problema dell'informazione e di educazione per i nostri ragazzi all'educazione all'emotività e all'affettività è molto scarsa e quindi il nostro obiettivo è proprio creare dei momenti in cui arrivino dei delle protagonisti dei protagonisti del del femminile ma del del mondo diciamo che si occupa di sessualità in genere che possano andare un po a togliere determinati stereotipi rispetto alla sessualità per restituire proprio una una sacralità all'atto e ai corpi bene io leggo qua tra gli altri temi la ciclicità nel femminile ed il suo straordinario potere sì questo è un incontro a cui teniamo veramente molto perché abbiamo avuto la fortuna quest'anno di collaborare con macroedizioni e quindi di avere attraverso ecco le loro pubblicazioni due delle loro più importanti scrittrici una di queste che terrà con noi secondo incontro secondo psico aperitivo e barbara monti che diciamo un educatrice fra virgolette mestruale oltre essere un counselor una persona che si occupa di crescita personale e perché perché era importante andare a sottolineare in che modo il le donne specialmente il femminile fosse sottoposto per nascita no biologicamente quindi a una ciclicità del proprio corpo ma non solo del proprio corpo anche della propria anima e del del proprio essere sin dalla comparsa della prima mestruazione fino alla menopausa e ognuno di questi eventi rappresenta una tappa fondamentale nello sviluppo psichico emotivo non solo fisico della donna e rappresenta per la donna uno straordinario potere allora andremo a esplorare con barbara proprio la il potere insito in ogni singola fase della donna e invito caldamente le mamme di giovani donne ad accompagnarle perché spesso il primo primo ciclo mestruale quindi la comparsa della mestruazione viene vissuta in maniera molto difficile se ne parla poco le ragazze sono molto spaventate l'utilizzo di farmaci che che bloccano il dolore è molto alto in realtà il nostro obiettivo è proprio quello di restituire veramente la naturalezza di questi eventi e la loro magia perché noi donne comunque siamo portatrici di magia in un certo modo per concludere il ciclo di psicoaperitivi cibo ed eros questo legame straordinario che comunque crea sempre tanto fascino soltanto nel nella semplice discussione insomma dell'argomento sì allora questo è un evento nato proprio da un'illuminazione notturna nel senso che ho detto non generalmente non parliamo mai no di questa commissione tra il cibo e l'eros però la letteratura il cinema sono spesso accompagnati da questo da questo binomio e quindi ci siamo chieste io e Sara come potevamo conciliare in un incontro che rimanesse un incontro leggero è semplice per le persone questi questi due aspetti della vita che sono entrambi importanti perché comunque il cibo nutre l'anima ed è un piacere e la sessualità nutre il nostro corpo la nostra anima ed è un piacere altrettanto importante e abbiamo la fortuna abbiamo avuto la fortuna ecco di collaborare con le organizzatrici del festival della letteratura erotica che si tiene a zibello che avremo come ospiti e entrambe scrittrici entrambe si occupano di cibo e sessualità addirittura Rosalba Scaglioni è titolare di un ristorante proprio a zibello in cui si occupa proprio di formulare dei menu che poi possano essere vicini al tema della sessualità quindi fra virgolette afrodisiaci quindi magari durante lo psicooperitivo forniremo anche delle ricette che possono essere poi utilizzate a casa ecco l'obiettivo era quello attraverso la lettura di alcuni passaggi di loro romanzi ma anche di romanzi di altra letteratura di accompagnare le persone che verranno lungo questo percorso multisensoriale quindi speriamo insomma che questo riesca ad ottenere comunque un grande risultato perché è assolutamente innovativo non è mai stato fatto prima precedentemente assolutamente innovativo ed interessante quindi chi vuole partecipare agli psicoaperitivi può farlo in che modo Sara? allora gli psicoaperitivi si svolgeranno tutti e tre al Botanic in un locale qui di Fano e sono tutti e tre ad ingresso gratuito ma con prenotazione obbligatoria per cui sarà necessario per chi avrà piacere e desiderio di essere con noi il 3 giugno, il 10 giugno e l'8 luglio di prenotare ai numeri che passano in sovrimpressione per essere appunto presenti con noi in quelle tre serate voglio ricordare se mi permetti Maria Elena che questi tre appuntamenti sono accompagnati oltre che dalle ospiti che Clelia ha già comunque citato dalle tre ospiti che Clelia ha citato saranno accompagnati anche dalle letture di alcune collaboratrici di impronte femminili per il secondo appuntamento sarà con noi Michela Gaudenzi e invece per l'ultimo quodo l'8 luglio sarà allieterà diciamo l'appuntamento con alcune letture sul tema appunto cibo ed eros Mirella Montalbano per questo appuntamento io e Clelia vogliamo ringraziare particolarmente anche per la collaborazione Francesca Tombari che ci ha aiutato nella ricerca appunto dei testi e nella composizione il più ricca possibile di quello che sarà un appuntamento veramente molto intrigante e interessante concludo sugli psicopeditivi ricordando che tutti i tre psicopeditivi saranno accessibili anche a chi ha difficoltà uditive e saranno presenti delle interprete della lingua dei segni quindi chi insomma anche la comunità dei sordi avrà la possibilità di partecipare ed essere con noi in tutti e tre gli appuntamenti molto bene io ringrazio allora anche Clelia Raffaele e devo dire anche a te grazie Sara perché personalmente sto scoprendo delle donne straordinarie di puntata in puntata veramente degli appuntamenti ricchi proprio per queste presenze quindi grazie grazie Marielle bene da parte nostra è tutto gli appuntamenti con impronte femminili ve li siete già assegnati in agenda io vi ringrazio dell'attenzione ringrazio Riccardo Sora in regia e tutti voi per l'attenzione buon proseguimento con i nostri programmi grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.